In un mondo che deve aderire in fretta ad una filosofia quanto più green appare fondamentale il supporto di strumenti di vario genere capaci di guidare le persone verso un nuovo approccio all'ambiente e non solo, da qui l'idea di creare Actu, il cambiamento è nelle nostre mani. L'iniziativa lanciata dalla regione con la start-up e Word è presentata a Perugia presso l'auditorium di San Francesco al Prato. Questo cambiamento presuppone una scelta individuale, cioè ogni soggetto è chiamato a dargli il proprio contributo perché si tratta di cambiare le nostre abitudini, i nostri stili di vita. Allora in questa cornice e con questa consapevolezza nasce questo progetto pilota, Actu, cioè agisci tu, il cambiamento è nelle nostre mani. Credo che siano messaggi molto eloquenti che fanno coppia con il messaggio che l'ONU sta portando avanti per dare sostegno all'agenda 2030 che è la campagna Act Now. Il progetto è indubbiamente coraggioso visto che la volontà principale è quella di rendere l'Umbria il luogo delle eccellenze anche in materia di politiche ambientali per la sostenibilità. Insomma, ad ora in avanti si lavorerà nell'ottica di tentare di diffondere delle buone pratiche. La tecnologia deve essere una leva per arrivare alle persone. I cittadini sono pronti? In parte sì. Allora, dobbiamo spronare le persone a fare azioni per il clima, c'è bisogno di sia educazione che coinvolgimento. Sappiamo che stiamo chiedendo alle persone di fare una cosa in più. L'obiettivo qui è creare cultura della sostenibilità e per creare cultura della sostenibilità dobbiamo prima imparare e poi agire. Quindi questa conoscenza è proprio deutica per generare azione. Con Actiu si punta quindi a sensibilizzare la comunità locale per seguire delle particolari linee guida caratterizzate da comportamenti virtuosi in senso ecologico. Ecco perché si può parlare di un innovativo progetto di educazione ambientale pensato per generare nuove e più ampie consapevolezze.